Sono Mirko Greggi dell'Antaridi di Predappio, abbiamo realizzato la residenza Lappiana per cui abbiamo vinto anche il premio domotiche in ambito residenziale. Questo progetto si differenzia per l'utilizzo di fonti rinnovabili, quindi la pompa geotermica con le sonde geotermiche, l'impianto fotovoltaico e uno stretto uso di domotica proprio per andare a gestire queste fonti. Inoltre tutti gli impianti speciali sono integrati insieme mediante l'utilizzo di touchscreen con un software nostro modificato, quindi non standard, volto proprio alla gestione di tutti gli impianti. Quindi da questi touchscreen che sono praticamente installati in ogni appartamento della residenza, noi possiamo gestire la termoregolazione, l'illuminazione, i classici scenari, vedere le telecamere, ascoltare radio IP e accendere e spegnere le luci. L'azienda nasce nel 1970 e si è occupato sempre di impianti elettrici e nell'ultimo decennio anche di impianti fotovoltaici e soprattutto impianti di fonti rinnovabili, quindi anche impianti eolici.